amici di inter fan tv cuori porti nerazzurri bentornati da michele borrelli al primo appuntamento stagionale con interagire innanzitutto il perché di questo appuntamento un po diverso dalla dalla scorsa stagione perché era finita per diventare interagire un po come obiettivo inter quindi un attito con gli ospiti invece in tanti mi scrivete per domande a qualsiasi ora del giorno in privato quest'estate ci siamo confrontati su tanti temi soprattutto il per play finanziario ma anche il mercato dell'inter e tutto il resto e quindi ho pensato che potesse essere un appuntamento settimanale il mercoledì pomeriggio per incanalare un po tutte le domande e quindi proprio lo spirito della trasmissione interagire saluto intanto antonio che mi saluta quindi benvenuti benvenuti a tutti perché dicevo nel titolo oltre a fare pre finanziario qui vorrei fare un focus ciao anche adrian sempre forza inter un po di bufale che non mancano mai purtroppo e quindi alcune precisazioni saluto anche david pasquale ciao ciao a tutti allora innanzitutto sentivo oggi un po da tante parti ma anche si è letto purtroppo di miranda che deve rinnovare il contratto perché in scadenza saluto zurigo saluto insomma tutti gli amici che si stanno collegando non so alcuni poi la pronuncia è giusta dicevo allora partiamo subito perché poi ci sono tante tante cose da dire e anche mi interessano le vostre domande quindi miranda ha un contratto in scadenza nel 2019 non nel 2018 e questo ve lo posso confermare da bilancio dell'inter ufficiale se non so perché alcuni colleghi che tra l'altro a cui tra l'altro è stato distribuito il bilancio non hanno visto bene non lo vogliono andare a controllare poi tra l'altro tanti siti riportano quello che qualcuno magari scrive allora miranda miranda dei sosa figlio joao data scadenza ultimo contratto 30 giugno 2019 non mi sembra interpretabile più facile di così si muore questa è la prima cosa secondo quindi miranda un contratto in scadenza nel 2019 come per esempio anche santon che ho visto oggi è tornato ad allenarsi così come hanno fatto già parlare i nuovi il nuovo colore dei capelli di cardi ma sono cose che mi interessano mi interessano un po meno non naturalmente il ritorno all'allenamento di santon ma il colore dei capelli di cardi allora miranda e santon hanno contratto in scadenza nel 2019 per quanto riguarda invece quello che è stato ancora incredibilmente detto l'altro ieri sera tra l'altro smentito anche con la giornata di ieri sul discorso dei blocchi dalla cina e io c'è veramente quando tutti ormai dicono la stessa cosa diventa anche un po complicato e difficile per un tifoso magari giustamente credere c'è intanto a marco a davide a tutti quelli che si stanno collegando diventa difficile credere una cosa diversa poi soprattutto qualcuno mi ha scritto anche in privato dice michele ma io da tutti quanti sento dire che c'è il blocco c'è il blocco c'è il blocco allora innanzitutto si parlava di limitazioni ma dal dalla cina per gli investimenti naturalmente in alcuni settori come il calcio quindi limitazioni ma non blocco ma non è non c'entra l'inter non c'entra su ling su ling i suoi investimenti e sono da bilancio adesso per questo insieme andiamo a vedere proprio le parti importanti su quello che è il bilancio dell'inter sul fair play finanziario e su come si può spendere su come su ling ha intenzione di spendere perché eh e l'inter oggi io riassumo spesso così ma evidentemente tanti non non l'hanno capito questo slogan questo riassunto non è su ling che spende ma è l'inter che spende come tra l'altro tutti i grandi club europei e anche meno grandi italiani davide dice to calcio hanno fatto intervenire uno che poi non è manco più presidente si dice presidente spacciandolo per tale poi non hanno avuto la faccia d'onestà per dirlo questo rappresenta in gran parte i media si hai ragione davide sul discorso che sono state dette in quella intervista a cui tu fai riferimento cose assurde nel senso che quando si parlava anche di obbligo di divieti per dalla cina per l'esportazione di capitali non è affatto non è affatto così ma anche diciamo le limitazioni ripeto il caso dell'inter non c'entra niente mi dispiace che anche avevo già nominato in un altro video quest'estate il sindaco di milano sala o altri che magari non hanno il tempo o la voglia di andare a informarsi dalle fonti dirette in questo caso dirette perché nelle fonti dirette si trovano i plan i progetti la pianificazione delle spese valter intanto mi chiede di albert poi entriamo anche nello specifico dei giocatori perché altrimenti non si riesce a mettere una parola a punto su questo la parola a punto quale su cui la voglio mettere dice si sa qualcosa del rinnovo di vanoisden caosilla scadenza 2019 andrea d'aracusa non so se ricordi ciao ciao andrea sì no sicuramente il il contratto di vanoisden verrà verrà prolungato e rimarrà all'inter perché lo volevano già quest'estate tante squadre a partire dalla premier league e così naturalmente non è stato rimasto all'inter dicevo sul discorso dei costi e delle spese possibili allora andiamo a vedere quello che proprio scrive l'inter nell'ultimo bilancio pubblico perché poi ricordo che a ottobre ci sarà il nuovo l'ingresso allora partiamo proprio da dall'inizio si parla dell'ingresso appunto di di Suning l'ingresso del nuovo azionista di maggioranza ha portato nuove risorse finanziarie derivanti dall'aumento di capitale quindi per chi dice che Suning non ha investito sono 142 milioni investiti per l'aumento di capitale poi 180 milioni per finanziamenti a soci e quindi arriviamo già a 180 e 142 sono 322 più naturalmente poi bisogna aggiungere anche la situazione debitoria che Suning va ad raccollarsi per quanto riguarda il mercato invece ditemi se non è chiaro questo una società spende quello che il club produce questo è il concetto del percorso finanziario non c'è il proprietario ricco che immette denaro cioè vai dall'Atalanta zang vada per cassi da per cassi 20 milioni perché uno scambio tra compratore venditore privato no è l'inter che in base al suo fatturato ha una capacità di spesa ma l'inter così come tutte le altre quello che però mi interessa soprattutto su cui mi interessa tornare è questo discorso del fair play finanziario e di questa ormai non se ne può più discorso del partito comunista cinese il metà ottobre tutte tutte queste storie assurde a cui ormai ci si è a suoi fatti cioè ci sentiamo se l'inter che ormai neanche mettono in discussione questo no ormai credono solo a questo e pensano chissà il partito comunista cinese cosa dovrà decidere pensando che saluto ermes intanto pensando che sia davvero il futuro dell'inter dipendente da congressi di partiti eccetera eccetera allora l'aumento di capitale l'erogazione dei finanziamenti hanno consentito di ristabilire l'equilibrio patrimoniale del gruppo fc internazionale e appunto si parla di continuità aziendale questo per esempio è molto importante anche rispetto a quello che è il milan dove c'è discontinuità aziendale nella nuova proprietà e quindi il milan proporrà il voluntary agreement a ottobre adesso ha parlato anche passone in questi giorni ribadendo il fatto che presenterà un nuovo piano quindi l'inter diciamo sta uscendo da un percorso di sanzioni tra un po lo vediamo perché non è chiaro per niente ho visto nei tifosi ma anche purtroppo ad alcuni media e il milan invece sta per entrare in questo tunnel qualcuno dice per esempio il finanziario esiste solo per l'inter no naturalmente esiste per tutti saluto intanto walter mario pasquale allora la missione del nuovo azionista di maggioranza attenzione perché questo è un passaggio fondamentale che ha maturato già esperienze nella gestione di società calcistiche in cina quindi su ling sarà quella di dare continuità al progetto iniziato dal precedente azionista quindi dato il saluto walter e pasquale l'avevo già salutato quindi continuità al progetto iniziato dal precedente azionista puntando ad affermare la capogruppo inter come uno tra i più importanti club calcistici al mondo eccetera eccetera incrementando la presenza commerciale globale e implementando e mantenendo una rigorosa attenzione perché questo è il progetto di suning a giugno 2016 e non c'è nessun blocco nessun limitazione cinese nessun partito comunista 2016 però qualcuno non lo so dimentica di leggerlo non lo vuole leggere non ha tempo perché ormai il giornalismo è questo uno fa un'intervista chiama una persona magari senza nemmeno accertarsi della carica che ha quello ti racconta qualcosa perché dice sì la cina è un mondo sconosciuto chiamiamo qualcuno che della cina magari sa qualcosa in più e ci racconta lui e ci crediamo pure di quello che ci racconta su 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 magari un blocco ventilato poi già smentito ripeto domani va bene va bene tutto la mission di suning incrementando la presenza commerciale globale implementando e mantenendo una rigorosa disciplina finanziaria con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico finanziario anche alla luce della normativa sul per play finanziario non c'è un cambio nelle parole di steven zang come qualcuno ha voluto far credere il 15 di maggio il primo di agosto e l'ultima intervista è stata la settimana scorsa in cui lui ha ribadito in tutte e tre le interviste sia a maggio sia il primo di agosto e sia qualche giorno fa quello che c'era già nella mission del del bilancio 2000 bilancio consolidato al 30 giugno 2016 non è cambiato nulla l'inter quello che doveva investire l'ha investito su un inc scusate quello che doveva investire l'ha investito ora c'è da far aumentare i ricavi per nel rispetto delle regole del per play finanziario potersi permettere dei costi superiori andiamo però per ordine andiamo per ordine perché bisogna capire qual è l'accordo con la uefa cosa si può fare cosa non si può fare e che l'inter non poteva in questa estate avere una maggiore capacità di spesa allora andiamo a vedere un attimo insieme allora si parla di tutto quello che è anche il discorso del fair play finanziario la campagna trasferimenti eccolo qua il capitolo sul fair play finanziario ciao ciao ermes dice frecciatina no no frecciatina a nessuno qua tutti oggi hanno riportato anche miranda 2018 ormai ognuno tutte le date sono così sono diventati numeri sono diventati a piacere nel mese di settembre 2014 questo perché lo dico oggi il mercoledì e non il lunedì e il venerdì sera l'appuntamento con obiettivo inter con gli ospiti perché quando facciamo il dibattito naturalmente ecco per esempio pasquale dice il mercato era bloccato non solo per i propri finanziari ma per i blocchi dei capitali esteri dal congresso decisivo no pasquale non è così mi dispiace lo so che tu hai detto quello che quasi tutti hanno scritto ma non è così mi spiace dirlo così diceva ma come anche tutti gli altri tutti gli altri non lo so tutti gli altri sono stati presi in giro magari anche da spalletti che ha detto mi sono in profumato sono corso al cancello di appiano gentile per accogliere gli acquisti che voi mi avevate quasi convinto scrivendo ogni giorno all'altra parte disse a metà luglio disse 150 milioni siete sicuri perché l'avete scritto e quindi così saranno se non saranno 150 milioni vi vengo a bussare gli spalletti ai colleghi che erano in quella conferenza però se noi chiamiamo chiariamo dico a pasquale come tutti quelli che insomma purtroppo hanno creduto a questi blocchi eccetera hanno chiuso i rubinetti ecco questa è un'altra frase che mi piace proprio che questi quanti hanno chiuso i rubinetti è diventato una barzelletta allora se uno capisce la regola del fair play finanziario capisce cosa ha detto su ming quando arriva cosa vuole fare capisce quello che viene detto capisce poi di conseguenza anche che certe cose non sono non stanno né in cielo né in terra nel mese di settembre 2014 il club financial control body che anche una sigla si chiama cfcb che è l'organo di controllo finanziario dei club ha dato inizio a un'attività di verifica del rispetto da parte del capo gruppo dei requisiti sportivi legali infrastrutturali organizzativi ed economici finanziari previsti dal regolamento uefa del 2011 12 noi poi tra l'altro questo fair play finanziario lo cerchiamo di spiegare evidentemente malissimo perché non si capisce dal 2010 11 perché doveva partire nel triennio 11 14 come poi è partito adesso c'è stato il secondo triennio 14 14 17 ecco per esempio un'altra frase che voglio dire così velocemente cose che si possono che si sentono in giro dice l'inter deve sopportare un altro anno poi il fair play finanziario finalmente ce lo togliamo davanti è finito no non è quello il principio del fair play finanziario c'è sempre ed è per tutti l'inter oltre al regolamento normale del fair play finanziario anche sotto sanzione che è concordata si chiama settlement agreement cioè accordo saluto mario e tutti quelli andrea avevamo fatto il pareggio di bilancio già fine giugno a luglio anche se lentamente avevamo comprato poi a metà agosto la direttiva cinese è bloccata ancora logico siamo bloccati andrea no mi dispiace andrea ma non è così perché anche nell'esercizio 2017 18 l'inter deve raggiungere il pareggio di bilancio quindi tu puoi spendere in base all'aumento dei ricavi non a piacere secondo la potenza economica del proprietario in più ci sono altre cose però vado per ordine così poi ne discutiamo allora a seguito ecco qua dalla verifica è emerso dalla verifica questo nel 2014 iniziato il controllo della wefa con l'inter quello che inizierà per il milan adesso è emerso il mancato rispetto dei requisiti finanziari da parte della capogruppo cioè dell'inter e in particolare del break even rule intesa come la copertura di tutte le proprie spese con l'eccezione di alcune tipologie specificate da regolamento wefa come ad esempio quelle dello sviluppo dello stadio settore giovanile cioè spese che non riguardano il fair play finanziario dice cucio non so se si pronuncia così scusami le sanzioni quando finiremo di pagarle pagarle e questa è una bella domanda ci stavo arrivando per ordine allora le sanzioni sono fino al 2019 perché erano fino al 2016 17 nel maggio 2017 la wefa ha detto all'inter che è stata promossa parzialmente quindi anche per le due stagioni successive la pronuncia giusta grazie allora nel 2017 18 2018 2019 restavano ancora due stagioni sotto sanzione c'è limitazione a rossa se si va in europa quest'anno l'interno in europa ma l'anno prossimo ci sarà se non cambiano le cose nella prossima primavera perché nella prossima primavera può succedere quello che per esempio nel 2015 è successo a paris angermen e manchester city cioè tutto raggiunto obiettivi tutti raggiunti in anticipo e quindi un anno di sanzioni accorciate quindi l'inter potrebbe già nel 2018 avere tolte questo tipo di sanzioni a quanto ammonta attualmente il nostro fatturato dice angelo mollica dai questo è una cifra veloce quindi lo posso posso dirlo subito anche interrompendo un attimo il discorso e sui 241 ecco qua 241 milioni e rotti quindi questo è e bisogna considerare che 241 milioni l'inter può spendere in giocatori per rispettare gli accordi circa il 60 per cento il 60 per cento basta fare i conti sono 144 45 circa milioni di euro e quanto spendeva l'inter in questo caso di giocatori non di cartellini di giocatori ma quanto costavano i singoli giocatori a bilancio circa 161 l'anno scorso quindi capite che l'inter era andato un po oltre ecco questo qui devo fare una piccola parentesi perché questo è molto importante quando si calcola il costo dei giocatori a bilancio noi in ogni singolo esercizio allora il costo di ogni giocatore a bilancio facciamo un esempio vesino quanto costa vesino all'inter nel 2017 18 vesino costa il valore del suo cartellino diviso gli anni di contratto più il suo ingaggio lordo quindi è stato pagato 24 diviso 5 fa quasi 5 più l'ingaggio lordo sono circa 4 milioni vesino costa circa 9 milioni all'inter se l'inter paga 9 milioni tutti e 23 giocatori della rosa capite che andiamo a finire a più di 200 a poco più di 200 milioni invece bisogna arrivare al 60 per cento del famoso fatturato fatturato che naturalmente l'inter lavora per accrescere per questo si è fatta la tournée poi vediamo anche quanto incide una tournée per esempio perché ci sono i precedenti e quindi quello influisce molto l'espansione del marchio naturalmente il ritorno in champions è proprio il massimo della vita harry forras dice il vicepresidente l'espagnolo ha confermato il blocco dei capitali in cina stanno tutti mentendo ma certo che no allora innanzitutto non ha confermato il blocco perché nel calcio si parla di limitazioni ma ogni società ha una situazione diversa il vicepresidente l'espagnolo non ha parlato dell'inter ha parlato di una direttiva del governo cinese per quanto riguarda chi vuole investire oggi nel calcio esportando capitali e quindi si può riferire a chi oggi vuole andare a comprare una società di calcio a chi oggi per esempio l'operazione che ha fatto su ning dove ho detto che ha speso 180 più 142 ha investito quindi tanto nell'inter ma adesso ormai l'ha fatto non è che il governo cinese ha detto chi ha investito deve adesso in qualche modo riportare a casa 320 milioni no oggi non deve spendere su ning deve spendere l'inter quindi non c'è su ning che il 15 di agosto o il 20 di agosto sta per tirar fuori 20 milioni di euro e non le tira più perché il governo di cinese dice no fermo non le puoi più spendere no è l'inter che spende non su ning su ning naturalmente essendo proprietaria di maggioranza socio di maggioranza dell'inter ci tiene al fatto che l'inter sia competitiva che aumentino i ricavi e che l'inter abbia maggior capacità di spesa altrimenti se fosse stato il proprietario a spendere in base non al fair play finanziario e al bilancio ma in base al suo patrimonio mi spiegate perché l'inter il a gennaio ha preso gagliardini in prestito con obbligo di riscatto dopo due anni o perché il primo di luglio il 15 di luglio il 10 di luglio non ha speso un miliardo di euro perché su ning ha speso un miliardo e mezzo di euro per i diritti tv di premier league liga bundesliga serie a c'è non è che i soldi non 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 ce li ha o non ce li hanno ma non è così che si fa calcio non lo fa nessuno non lo fa il napoli non lo fa la juve non lo fa il bayern monaco non lo fa nemmeno il real madrid e il bayern monaco e nessun altro però andiamo dicevo per ordine quindi quella che la cifra che bisogna calcolare è quanto incidono tutti i singoli giocatori non so andanovic è stato pagato 13 13 diviso gli anni di contratto più il suo ingaggio lordo arriviamo a una cifra così come per vesino abbiamo detto circa 9 milioni i cardi non sono stato pagato 13 milioni diviso gli anni di contratto costa di cartellino solo 2 più l'ingaggio che è più alto diciamo 5 all'ordo 10 cardi costa 12 però per unicardi che costa 12 un vesino che costa 9 un perisic che costa perisic per esempio se andiamo a vedere a bilancio è costato 19 19 milioni diviso gli anni di contratto che adesso sono diventati di più scade nel 2022 quindi questo da tener conto 19 diviso 7 perché perisic è arrivato nel 2015 fa due e mezzo più l'ingaggio lordo che adesso diventa 9 perisic costa circa 11 milioni a bilancio ma ci sono giocatori che costano pochissimo altrimenti se tu hai 10 milioni a giocatore per 23 arrivi a 230 abbiamo detto che l'inter ha un fatturato di 240 e deve spendere per giocatori il 60 per cento quindi 145 se spende 10 milioni a giocatore a bilancio arriva a spendere totale 230 e siamo fuori da ogni parametro e l'inter per esempio l'anno scorso è arrivata circa a spendere il 70 per cento tant'è vero che la web ad aprile maggio non so perché qualcuno se l'è perso ha promosso parzialmente l'inter perché da una parte ha messo a posto i conti c'è il famoso meno 30 a cui si doveva arrivare dall'altra parte non ha perfettamente diciamo rispettato tutto l'accordo perché il costo giocatori il costo stipendi ricordate l'anno scorso comunque è stata fatta una campagna acquisti anche onerosa si è andati un po' oltre adesso con questa campagna acquisti si è diciamo che l'inter è abbastanza si può prevedere che è rientrata nei ranghi ma siamo lì siamo al limite non è che si poteva spendere di più tanto è vero che l'accordo con mustafi a cui ho fatto riferimento ausilio gli ultimi giorni di mercato per esempio era anche lì con l'arsenal di un prestito anche con altri giocatori con chic stesso si parlava di prestito e obbligo poi negli anni successivi cosa che per esempio il pari saint germain ha fatto con vapea prende un giocatore in prestito per non incidere su questo bilancio christian dice e allora l'internazionale si trova senza un milioncino per prendere un difensore centrale siamo messi in maluccio ma non è che si trova senza un milioncino si trova a poter prendere dei giocatori solo a determinate condizioni quindi poteva voglio dire anche investire andare di nuovo sforare però se tu sforavi ad agosto 2017 poi ti saresti trovato sia a gennaio e il pericolo anche di trovarti a giugno prossimo che hai solo fino al 30 giugno c'è solo la prima parte di mercato per rientrare avete visto che non era facilissimo rientrare anche l'anno scorso però vado un po in ordine se no ci perdiamo nei discorsi e poi facciamo naturalmente il botte risposta allora a seguito della verifica quindi dei conti dell'inter dal 2014 è stata sotto osservazione abbiamo detto da questo control body club financial control body è stato stipulato un settlement agreement no fra inter e cfcb cioè il club financial control body che ha previsto oltre che a una sanzione economica pari 6 milioni scalabili nei ricavi dall'europa league eccetera eccetera due aggiunte da 7 milioni il totale ve lo ricordate il famoso 20 milioni di multa che non erano poi 20 perché erano 6 più 7 più 7 i 2 più 7 l'inter non li paga il primo già non l'ha pagato perché rientrata nel meno 30 o meno 40 perché puoi esporare massimo di 10 allora con riferimento ai vincoli finanziari l'accordo prevede per i singoli esercizi oltre alla capacità dell'inter della capogruppo dell'inter di operare in continuità aziendale il raggiungimento di un break even deficit per l'esercizio in corso non superiore a 30 milioni e per l'esercizio 16 17 una situazione di break even cioè quello che l'inter ha chiuso a giugno scorso doveva essere anche a 0 o meno 10 no e fin qua ci siamo con riferimento ai vincoli di natura finanziaria l'accordo prevede la sanzione di 14 diviso 2 7 più 7 abbiamo detto nei due anni in caso compreso tra 30 milioni e 40 abbiamo detto il primo anno e tra 0 e 10 l'ultimo bilancio che si è chiuso le eventuali penalità saranno trattenute dalla uefa a scomputo dei premi riconosciuti con la partecipazione dell'inter alle competizioni europee questo è il metodo di calcolo di queste multe il su che l'inter non ha pagato almeno la prima perché è rientrata adesso nel 2016 17 si spera sia rientrata ma l'inter è fiduciosa come lo era l'anno scorso di essere rientrata nel pareggio il superamento dei limiti dei limiti di break even deficit patrimoniale di 40 milioni euro e 10 milioni dell'ultimo anno perché ai 10 milioni di disforamento possibile determinerebbe la necessità di rinegoziare il settlement agreement con effetti sanzionatori non determinabili sino al termine della negoziazione cioè se tu non rispetti questi termini ti devi risiedere al tavolo e ricominciare dall'inizio l'accordo e naturalmente rischi anche sanzioni più pesanti fino all'esclusione dalle coppe come è stato per alcuni club eccolo qua uno dei punti importanti che tra l'altro è stato confermato ad aprile e maggio scorso dalla uefa si segnala che qualora i requisiti finanziari e limiti ai costi per salari stipendi e ammortamenti non fossero rispettati perché l'inter l'anno scorso ha rispettato parzialmente dove non ha rispettato in tutto appunto in questa voce salari stipendi perché abbiamo detto era un po superiore ai limiti previsti i vincoli derivanti dall'accordo con il control body in termini di numero di giocatori impiegabili nelle coppe verranno applicati anche per le stagioni 2017-18 e 18-19 e questo era scritto nel bilancio al 30 giugno 2016 ed è stato confermato nel maggio 2017 c'è nel maggio 2017 la uefa ha detto siete sulla buona strada i conti meno 30 è stato rispettato ma non tutti i parametri sono ancora stati allineati quindi restano anche per il 2017-18 e 18-19 le limitazioni ok quindi sono rimaste le limitazioni l'inter deve chiudere il bilancio in pareggio l'anno prossimo e questo comunque sempre ma anche le limitazioni su determinati costi di stipendio e di salari alla luce del risultato raggiunto al 30 giugno 2016 e dei flussi economico finanziari futuri previsti nel business plan condiviso dello scorso esercizio con il control body le cui proiezioni sono state oggetto di aggiornamenti in sedi di preparazione del presente bilancio a fine di riflettere degli aggiornamenti intercorsi nell'esercizio eccetera eccetera l'inter conferma come non probabile il rischio di mancato rispetto dei requisiti fissati vabbè questa è una previsione che ha fatto l'inter che è stata abbastanza rispettata perché abbiamo detto che è stata promossa ma parzialmente dobbiamo essere sinceri c'era il parzialmente quindi dalla UEFA poi ci sono vari dati questi possono essere interessanti per esempio l'inter non so se lo sapevate ma nella stagione per esempio 14 15 è stato il record negativo degli abbonamenti che era sceso a 22 4 poi nel 15 16 e gli abbonamenti erano 27 800 adesso ottobre sapremo il dato ufficiale della scorsa stagione 16 17 che è stato leggermente migliore di questo 27 8 adesso quest'anno la campagna abbonamenti è ancora aperta si prevede di arrivare a sopra i 30 i 30 mila allora che cosa può essere interessante anche in questo non non so eccolo qua sì questo l'ho già più o meno detto il discorso dei 180 milioni più 140 investiti a chi dice che per esempio Suningron ha investito oltre ai debiti accollati che non sono per niente per niente bassi e potrei andare via dire la situazione debitoria e non è proprio divertente passata dal 30 giugno 2015 514 al 30 giugno 2016 a 488 milioni parliamo di cifre così cifre per niente risibili quindi a chi dice che uno non vuole investire o che chi si è che non vuole investire allora per adesso chiudo qua se no poi non si capisce e dialoghiamo l'unica cosa che posso aggiungere su questo è molto importante anche perché il famoso debito spalmato con Goldman Sachs l'inter già nel bilancio scriveva che contava di modificarlo dei famosi 230 milioni un altro finanziamento di 300 milioni però adesso non voglio complicare troppo la vita perché credo di aver dato già troppi elementi alla discussione diciamo proprio dei dati subito finali 140 milioni era il passivo di due anni fa 59 quello scorso al netto del perpe finanziario 30 al netto significa senza calcolare costi per settore giovanile infrastrutture quindi l'anno scorso l'inter ha raggiunto adesso tra un mesetto e mezzo sapremo se ha raggiunto anche da questo punto di vista cioè del passivo non degli stipendi l'accordo con cioè se ha rispettato l'accordo con la UEFA ancora altre altre curiosità che posso non so i costi dei giocatori per esempio anche sui costi dei giocatori sento dire sempre le cifre più assurde quando sono specificati c'è o Mario 45 Gavi Gol 29,5 Candreva 25 Ansaldi 10,5 poi c'è stato anche un corrispettivo da parte del Genoa Caprari 5,5 per esempio la cifra altri sono stati riscattati perché poi bisogna tener conto di alcuni che vengono riscattati dopo per esempio Miranda, Jovetic, Brozovic e Eder sono stati solo nel luglio del 2016 riscattati perché erano dei prestiti con diritto o obbligo di riscatto va bene, io chiuderei qua tutte le cifre se no ci perdiamo nel mare magnum e non si capisce poi dove vogliamo andare a parare e poi leggo poche allora vediamo questo messaggio per esempio dice bisogna attendere decisioni del comitato centrale partitale per sapere se swing avrà il via libera gli investimenti del calcio no, forti in re su aviteri modo del tuo nome vedi, io al tuo messaggio posso rispondere dicendo che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire perché io ti ho detto non bisogna aspettare nessun congresso l'Inter deve aumentare i ricavi per potersi permettere maggiori spese su Ning i soldi non è che non ce li aveva l'anno scorso o a gennaio o a giugno ma hanno scritto chiarissimamente che l'obiettivo era incrementare la presenza commerciale implementarla e mantenendo una rigorosa disciplina finanziaria finanziaria, ce l'hanno detto da subito quando sono arrivati, rigorosa disciplina finanziaria significa spendere in base non ai governi o alle proprie possibilità economiche ma in base alla capacità di produzione di produttività del club Angelo dice, si può provvedere di quanto aumenterà il fatturato con l'entrata in Champions? ma allora con l'entrata in Champions aumenta di tanto se pensiamo a Juve, Napoli, Roma quanto hanno incassato in questi anni con un percorso medio si incassano sopra i 50 milioni ma già nei gironi si incassano 30-40 milioni quindi Giuseppe dice per esempio se non vai in Champions come gli aumenti i ricavi? e come gli aumenti i ricavi? gli aumenti con le sponsorizzazioni per esempio con la tournée che ti porta una maggior risonanza del marchio quindi l'inter da questo punto di vista ha già lavorato perché al di là delle alchimie per spalmare gli acquisti in più esercizi con l'obbligo di riscatto tra due anni tra un anno e mezzo tra tre anni quindi a non farli pesare tutti nel prossimo bilancio gli acquisti ci sono già stati dei passi clamorosi avanti perché l'inter senza fare le coppe mantenendo una squadra comunque competitiva e migliorandola anche in questi ultimi anni al di là del settimo posto dell'anno scorso c'è già Omario Candreva Banega erano comunque dei valori aggiunti poi non sto parlando adesso del miglioramento del progetto tecnico perché lì con cinque allenatori hai fatto passi indietro anziché farli avanti ma infatti adesso Sunink dopo un anno diciamo di studio di osservazione subito individuato subito forse fa un po' sorridere il termine subito diciamo che dopo questa prima stagione di apprendistato ha messo mano anche nella parte sportiva chiamando Walter Sabatini a fare il direttore di tutta l'area tecnica di Sunink Sport potenziando l'area tecnica anche l'area tecnica proprio della squadra e poi tra l'altro qui ci sono tanti messaggi adesso vanno vanno veloci me li sto perdendo sul Paris Saint Germain non so l'amico di prima pure che non so vuole provocare dice ma come quelli del Paris Saint Germain no anche lì c'è un regolamento il regolamento dice che non possono superare gli sponsor il 30% del fatturato di sponsor interni cioè se io sono non so la Fiat la Fiat la Fiat non è più Fiat vabbè ho fatto l'esempio sbagliato perché è meglio che non parlo della Juventus però se uno ha una proprietà vuole sponsorizzare il proprio club con i prodotti della propria azienda Suning che sponsorizza l'Inter con il marchio Suning se ha un fatturato di 240 milioni il 30% è presto fatto il conto sono 72 non può superare per 70 milioni le sponsorizzazioni per esempio ci sono state le sponsorizzazioni delle maglie d'allenamento della pinetina e quindi qualcosa si può fare ripeto il Paris Saint Germain non è andato oltre fino al giugno dell'anno scorso cioè i bilanci controllati adesso la UEFA ha aperto un diciamo un'ispezione come la vogliamo chiamare un controllo ha aperto una indagine un controllo su quello che sarà il prossimo di bilancio del Paris Saint Germain e lo stesso a che l'AIF ieri ha detto noi siamo sempre stati in regola e vogliamo continuare ad esserlo se la UEFA individuerà un aumento di sponsorizzazioni non lecito cioè sponsorizzazioni sopra il 30% di case aziendali vicine alla proprietà la UEFA può benissimo sanzionare il Paris Saint Germain cioè lo farà sicuramente altrimenti salta il sistema a cui tutti quanti gli altri hanno aderito hanno prima chiesto e poi hanno aderito quindi non vedo perché la UEFA non dovrebbe far rispettare questa regola visto che quando c'era da sanzionare Paris Saint Germain e Manchester City li ha sanzionati li ha sanzionati con blocchi delle rose con settlement agreement anche per loro come ha fatto con l'Inter e con la Roma poi loro si sono portati giustamente ieri Alcalife rivendicava il passaggio del suo fatturato da 90 a 500 milioni questo bisogna rendere dare atto ad alcune società per esempio la Juventus stessa dal 2010 ad oggi ha cresciuto di tanto il suo fatturato la Juventus dice allora la Juventus non ha avuto il blocco o la limitazione dal governo italiano e quindi gli Agnelli ogni anno comprano i Guain e di Bala no la Juventus ha fatto l'ultimo mento di capitale sette anni fa e quindi adesso continua a spendere in base a quella che è la crescita dei propri ricavi Michele secondo me queste sponsorizzazioni così imponenti sono accordi presi prima della rivoluzione UEFA su sponsore proprietari non ho capito bene Turito22 Amala dice secondo me queste sponsorizzazioni così imponenti quali per esempio forse si riferisce a quelle del Paris Saint Germain non ripeto cioè l'ultimo bilancio l'anno scorso ha già Qatar era sponsor del Paris Saint Germain dice Turito22 Amala sì sì ma ripeto a me interessa la UEFA deve far rispettare il felpio finanziario al Paris Saint Germain al Manchester City al Barcellona al Real Madrid a tutti quanti gli altri però siccome noi stiamo parlando dell'Inter e l'Inter ci dice che vuole attenersi non più o meno alle regole ripeto ma rigorosamente a queste regole se uno si vuole attenere rigorosamente a queste regole la capacità di spesa dell'Inter è quella il 60% del costo giocatori sul fatturato quindi l'Inter in questo mercato queste erano le operazioni che poteva fare con la previsione di un aumento di ricavi graduale non clamoroso il sistema è troppo contorto e aggirabile non è meglio lasciare tutto libero ma secondo me no ma sai perché perché è finito il tempo il calcio in cui c'erano dei proprietari voglio dire ricchi che usavano il calcio come il loro passatempo giocattolo quindi avevano un'azienda che ti faceva fatturare tantissimi soldi tu eri tifoso del Milan dell'Inter della Juventus della Roma compravi la tua società per cui facevi il tifo e poi quello che diciamo erano i tuoi guadagni incredibili nella tua vita aziendale una parte li mettevi nel giocattolo calcio adesso non è più così adesso siccome siamo a livello ormai di di espansione incredibile di 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 grande di grande spesa anche nel nell'industria calcio che è tra le prime cinque industrie dell'italia e nel mondo ormai è un fenomeno incredibile chiunque fa calcio qualsiasi azienda e ormai vediamo che il mercato è globalizzato quindi nel mercato della Premier League ci sono russi arabi americani cinesi così come anche in Italia si diceva no in Italia non arriveranno mai invece vediamo adesso il Milan e l'Inter che hanno le proprietà straniere la Roma il Bologna alcune società anche non più di che non sono in serie A quindi una volta che un investitore straniero nel mercato globalizzato deve prendere una società di calcio non ha nessun interesse a spendere così per passatempo perché dice no io il giocattolo Inter fatturo 50 miliardi di euro all'anno un miliardo di euro all'anno per la gloria lo metto nell'Inter no chi fa calcio oggi in modo strutturale aziendale la battaglia che per esempio Toir ha fatto per anni per tre anni e anche adesso per esempio con le promozioni dei vari membri dell'organigramma dell'Inter promozioni di Suning di uomini che già aveva inserito Toir e quindi la famosa continuità aziendale dimostrano come oggi una società di calcio non può più essere gestita da una sola persona che anche a costo di chiudere con 100 milioni di passivo un bilancio ci rimette ogni anno e per non fare questo ti devi per forza organizzare con una struttura sportiva una struttura anche però economica e una struttura quindi commerciale che ti permetta con tante professionalità che si occupa dell'ufficio sponsor in Cina l'ufficio sponsor negli Stati Uniti nei vari continenti in vari paesi grandi e quindi un piano commerciale che ti permetta di aumentare questi famosi ricavi e quindi che vada di pari passo certo con il lato sportivo ti ringrazio un attimo con tutti i soldi che ha messo sull'Inter non ci ha mai guadagnato il bilancio è fondamentale se sei solo perdi vai incontro al fallimento oppure non è che vai per forza incontro al fallimento però puoi anche diciamo a un certo punto non potertelo più permettere un certo tipo di spese dai allora naturalmente se ci sono domande su questo io mi piace dialogare anche su questo argomento e non sono forse non sono entrato proprio nel super specifico perché ripeto i dati sono tanti in un bilancio consolidato per esempio sono 64 pagine grazie intanto a Jonathan per i complimenti Enrico dice qual è la funzione del dell'UEFA Michele quindi quest'anno è l'ultimo anno di bilancio a zero no no allora quanto aumentano i ricavi della qualificazione in Champions se l'Inter sarebbe comunque a posto con il prossimo bilancio dovrebbe cedere come ha fatto a giugno per quello che sai in caso non arrivasse la qualificazione in Champions l'Inter sarebbe comunque a posto con il prossimo Suning potrebbe comprare giocatori a spese sue no questo no Suning non può comprare giocatori a spese sue Jordi Turi Suning spende in base ma poi questo veramente lo potrebbe anche non c'è nemmeno bisogno di fare il giornalista informato perché se Suning potesse spendere in base alle spese sue per Suning 4-500 milioni sul mercato almeno così il primo e il secondo anno non è che sono cifre incredibili per il loro fatturato però non è questo lo spirito con cui si vuole fare calcio e né il regolamento quindi no poi però c'erano state diverse domande domande sul perché poi spariscono andando sopra allora vediamo ecco dovrebbe comprare sono curioso di sapere quanto sarà il nostro aumentato per me potremmo essere al secondo posto al massimo terzo in Italia dice Davide Mirabella sì allora i ricavi della qualificazione Champions e poi l'Inter sarebbe comunque a posto con il prossimo bilancio se non va in Champions League sì allora innanzitutto se l'Inter va in Champions League non è che i ricavi sono nel bilancio 2017-18 arriverebbero in quello successivo quindi comunque l'Inter deve fare senza la Champions in questo bilancio questo non significa però non potersi muovere sul mercato perché la Roma stessa per esempio Schick come l'ha preso la Roma l'ha pagato 9 milioni di euro più 5 più 8 di bonus più nel 2020 20 milioni se non lo cede e arriva un totale di 42 ok no stavo leggendo dei messaggi oppure il 50% della cifra a cui lo vende se è superiore a 40 milioni per esempio se il Bayern Monaco o il Manchester United o il Real Madrid offrono alla Roma per Schick 80 milioni l'anno prossimo tra due anni la Roma lo può vendere deve dare però alla Samp non più 14 più 8 di bonus più 20 ma 14 più 8 di bonus più 40 che è la metà della cifra a cui l'ha venduto questo fino a febbraio 2020 se lo vende è dentro il febbraio 2020 si può anche capire che l'Inter a certe cifre non ha voluto un competere ma non perché c'è stato il blocco dalla Cina o il partito comunista cinese l'Inter poteva anche proporre alla Samp un'altra formula non so 5 milioni subito più 50 milioni anziché 42 totali della Roma da spalmare negli anni ma non ha voluto inseguire nell'asta la Roma sopra queste cifre cioè la cifra che offre la Roma è stata veramente alta allora in confronto alle altre europee abbassi i ricavi ah dice la Juve abbassi i ricavi sì è vero la Juve i ricavi da stadio ce l'ha e comunque il fatturato è aumentato è aumentato molto dice io se sono Bill Gates dice forti perché voglio spendere 500 milioni a squadra di calcio per il mio diletto dovrei essere libero di di farlo non lo so allora perché dico non lo so allora innanzitutto il fair play finanziario non viene capito mai perché non si capisce che non è un giochino imposto così per sfizio ma è stato deciso perché si stava creando una grande bolla di sapone rischiosa nel calcio europeo e cioè una composizione di debiti sopra il miliardo e mezzo di euro che se un proprietario si fosse scocciato da un giorno all'altro avrebbe lasciato fallire una squadra e se fallivano 10 15 20 o anche 5 grandi squadre indebitate ci poteva essere il collasso del sistema con il fair play finanziario cioè tu costretto proprietario non a indebitare il club ma rispettare i conti guarda caso già nei primi questi primi sei anni o soprattutto gli ultimi tre di regime totale di fair play finanziario i debiti delle squadre europee sono scese sotto i 400 milioni di euro cioè da un miliardo e 7 a 350 quindi il passo in avanti è stato fatto però succede che un nuovo proprietario dice come giustamente diceva l'amico prima perché non può entrare nel calcio e spendere perché è realita allora si è fatta una miglioria di questo prefinanziario si è detto se c'è una nuova proprietà che ha discontinuità aziendale con quella precedente può fare un voluntary agreement cioè un accordo volontario con la UEFA ci sediamo al tavolo dice noi non siamo quelli che chiudevano sempre in passivo non avevano una gestione diciamo sana del club eccetera eccetera ma vogliamo fare le cose fatte per bene facciamo un piano quinquennale in cui noi prevediamo di sviluppare il nostro progetto però vogliamo per lanciare questo progetto spendere molto adesso si può fare è quello che per esempio proporrà il Milan il voluntary agreement che finora non ha precedenti tra le big cioè il voluntary agreement ti permette di dire io rientro in tre anni in quattro anni di queste spese però lo stesso poi devi rientrare in tre quattro anni perché fidatevi c'è benefattori non ce ne sono altrimenti c'è l'amico che diceva ma Bill Gates non è entrato perché allora questi grandi ricchi non sono entrati tutti nel calcio perché nessuno ha interesse cioè mi ricordo Briatore fece un'intervista qualche anno fa diceva io non ho interesse a entrare nel calcio dove si perdono soldi oggi per esempio si può entrare nel calcio e guadagnare dei soldi forse sì in Inghilterra per esempio sicuramente in altre nazioni è un po' più difficile in Italia ci sono società che lo stanno facendo il Napoli la stessa Juventus la Lazio l'Inter e la Roma si stanno mettendo a regia il Milano lo dovrà fare ma credo che sia anche un sia anche giusto voglio dire cioè gestire un club in modo in modo sano in modo ripeto come si gestirebbe qualsiasi altra azienda cioè non è che ci sono in altri settori ricchi scemi che entrano e dicono ah saluto intanto Nicola dalla Sardegna ciao ciao Nicola un grande un grande abbraccio Francesco dice in Italia la Juve è in Troy di minori dell'ultima di Premier in termini di diritti tv sì è vero perché per esempio in Premier 100 milioni di euro vanno per diritti tv a chi arriva subito nella massima Lega e invece in Serie A la Juve l'Inter e il Milan che sono quelle che incassano di più dai diritti tv adesso potrei andare a prendere la cifra precisa dell'Inter nel 2015-16 che era intorno ai 70 e passa milioni e inferiore questo che significa che la Premier League ha lavorato bene negli anni adesso per esempio proprio in questi giorni ci sarà la conclusione del bando per i diritti tv della Serie A all'estero e l'Italia conta di arrivare a guadagnare circa 300 milioni di più degli anni passati e il miliardo che guadagnava invece in casa da Mediaset Sky e Rai e gli altri in Italia quest'anno ancora non non è stato sancito nessun accordo si sta parlando del triennio 2018-21 tant'è vero che Sky rivendicava il fatto di aver fatto un'offerta e di aver vinto la sua gara diciamo d'appalto ma la Lega ha detto no noi prevediamo di avere di nuovo ricavi più alti quindi rimoduliamo il tutto e si rifà tutto e al momento ancora non c'è non c'è un accordo l'Italia dal punto di vista dei diritti tv è messa diciamo peggio della Premier League ma meglio anche di altre però naturalmente come in tutti i settori più differenzi il rischio quindi se un club si basa solo sui diritti tv o il 70% lo basa sui diritti tv è messo male perché nel momento in cui non ti entra quello ecco Dejan Sab intanto dice tra una cosa e l'altra perché iniziamo a parlare anche un po' di campo dice quando può tornare Cancelo Cancelo è monitorato di settimana in settimana per la sua tipologia di infortunio si pensa che 4-5 settimane possano essere quelle giuste quindi nella pausa dal primo al 15 ottobre cioè tra Benevento Inter e Inter Milan dovrebbe ritornare ad allenarsi con la squadra al momento queste sono le diciamo le informazioni che si hanno ma poi magari va più veloce o rallenta speriamo che nella pausa possa appunto recuperare la condizione se Suningro può disporre della ricchezza incredibile del suo fatturato cosa cambia a questo punto dalla gestione Tohir bella domanda di Francesco allora cambia prima di tutto il fatto che nel momento in cui arriva non solo liquida il 40% di Tohir che passa dal 70 al 30 e Moratti che passa dal 30 al 0 cioè quindi acquisisce il club ma immette anche denaro fresco nell'Inter quindi con un aumento di capitale come per esempio aveva fatto anche Agnelli nel 2000 nel 2010 ma soprattutto la forza di espansione del marchio Inter e quindi l'aumento di ricavi e quindi la capacità di spesa del fatturato Inter non del fatturato Suning può aumentare di più con un proprietario come Suning che con un proprietario come Tohir o come Moratti stesso Moratti quando ha venduto disse oggi per essere competitivi nella Coppa dei Campioni come amava chiamarla come amava chiamarla sempre devi essere competitivo con il Manchester il Real e il Bayern Monaco per essere competitivo con il Manchester il Bayern Monaco adesso si è aggiunto il Paris Inter si sono aggiunte altre squadre il Barcellona eccetera eccetera devi pareggiare devi andare a fare la guerra a questi club dove loro hanno i maggiori introiti e loro i maggiori introiti ce l'hanno sul mercato estero asiatico in particolar modo la forza di Tohir può essere nel mercato indonesiano può essere anche nel mercato asiatico perché tu apri un ufficio in Cina però volete mettere l'impatto di un'azienda che è leader in Cina leggevo il mese scorso dopo Huawei i cellulari c'è Suning in Cina e tu hai veramente una visibilità grande poi Suning si è sviluppata tramite l'e-commerce è stata la sua forza c'è il commercio online può dare un grande diciamo input una grande accelerata a non stavo leggendo l'altro messaggio se no non riesco poi a rispondere a tutti dicevo Suning può dare una grande accelerata all'aumento dei ricavi rispetto a un proprietario magari che ha ragionato sempre in modo diverso che fa parte comunque di un calcio diverso oppure anche un proprietario straniero che però non è un'azienda così grande come può essere quella di appunto di Zhang Jingdong di Suning quindi questo è il valore aggiunto di di Suning di pari passo naturalmente ci sono poi le scelte sportive che devono essere coerenti e devono essere vedi per esempio Biadaz scrive l'Inter vince ma non c'è identità in rosa un Felipe Melo Andreoli rappresentare l'interismo ci vuole per come vabbè di là di Felipe Melo Andreoli quello che serve è un piano anche sportivo allora furia di cambiare proprietà oppure di non pensare che la continuità aziendale in questo caso sportiva possa essere un valore ci siamo o diciamo l'Inter si è fatta tra virgolette fregare da club che avevano minor capacità sia di spesa che quindi fatturato più basso e il Napoli il Napoli prima con Mazzarri poi due anni di Benitez adesso il terzo di Sarri proseguendo su un percorso di tolgo questo e metto quell'altro voglio giocare così mi serve questo miglioro il gioco vado avanti su questa linea ha creato comunque una squadra che costa meno ma ottiene di più il Milan stesso oltre all'Inter con molti più soldi non era mai competitivo perché venivano spesi o male o non seguendo un piano allora l'Inter con adesso con Suning ha giustamente iniziato per ordine prima dal direttore tecnico poi il direttore sportivo il vice direttore sportivo l'allenatore sostenuto dall'area tecnica e poi un campagna rafforzamento seguendo appunto anche l'allenatore l'anno scorso Mancini era scontento ce lo ricordiamo tutti quest'anno Spalletti ha detto alla fine del mercato abbiamo concordato tutto questo è un dato di fatto se tu concordi tutto e hai Spalletti e hai una squadra che può essere rafforzata mercato dopo mercato hai una capacità di miglior di spesa superiore al Napoli quindi se lavora per tre anni il Napoli e lavora per tre anni l'Inter e diciamo lavorano da da sette tutte e due a livello sportivo e l'Inter avrà più mezzi del Napoli per forza intanto in questi anni la Roma ha raggiunto Milan e l'Inter questo è il dato negativo diciamo che dobbiamo purtroppo anche dire perché negli ultimi negli ultimi anni l'Inter e il Milan si sono fatti il Milan è sceso anche come l'Inter l'Inter se pensiamo al 2010 non si è sfruttato tutto il post-riplete ecco l'Inter aveva più o meno i conti della Juve dell'anno scorso nel 2010 e la Juve aveva nel 2010 i conti dell'Inter appunto dell'anno scorso adesso si sono invertite le parti anzi la Juve è andata anche oltre perché dopo due finali Champions ha aumentato di tanto i suoi i suoi ricavi e oggi si può permettere per esempio Guain a 7,5 Di Bala che arriva a 7 Allegri che arriva a 7 cioè inizia ad avere un monte in gaggi di un certo tipo ma sostenuto dalla propria capacità aziendale non dall'azionista di maggioranza non è che l'FCA casa automobilistica che è socio principale della Juventus non ha il fatturato di Suning o di dei club grandi ce l'hanno ma non spendono quel tipo di perché ecco dice Hermes riassumendo bene è tutta una questione di sostenibilità finanziaria dice Davide Spalletti deve stare 5 anni sì sì dobbiamo finalmente iniziare ad avere una continuità per esempio l'Inter dice Turito giustamente bisogna mettere mattone per mattone e costruire una superpotenza l'Inter arriva quarta quest'anno dice sì lo so l'Inter giustamente il tifoso dell'Inter vuole lottare per vincere quello poi ha vinto il Leicester non è che non può succedere che anche l'Inter per esempio due anni fa l'Inter stava andando anche tutto bene quindi poteva anche lottare per lo Scudetto fino al girone d'andata l'ha fatto può succedere ma andiamo sul quello che deve succedere non su quello che può succedere cosa deve succedere deve succedere che l'Inter non non può fare settima non può fare ottava non può fare nona come ha fatto nel 2013 nel 2015 nel 2017 quando le stagioni vanno male deve arrivare per esempio quest'anno non non puoi arrivare sotto le prime cinque certo devi provare arrivare con tutte le forze al quarto posto perché ti cambia la vita questo è giusto allora se arrivi nelle prime quattro ovviamente l'anno prossimo inizi a programmare con un fatturato superiore e quindi si poi arrivo all'argomento stadio che vedo che lo state toccando in diversi per esempio quello lo possiamo credo che lo possiamo un po' chiudere per oggi questo questo argomento quello che bisognava dire credo di di averlo detto Miranda nel 2019 e non nel 2018 quindi non bisogna rinnovare nessun contratto urgentemente a Miranda visto che ha 33 anni per quanto riguarda il partito comunista cinese prendesse tutte le decisioni che vuole nel congresso di ottobre perché Suning ha un piano di sviluppo di sviluppo del club ben chiaro e ben definito un preciso piano industriale che prevede l'aumento dei ricavi che prevede una capacità di spesa sempre maggiore e quindi un Inter che non deve avere più un Napoli o una Lazio che con minor costo deve fare di più di te perché l'Inter deve avere i migliori i migliori direttori sportivi i migliori allenatori i migliori giocatori a quel costo che dice il Napoli è stato bravo a prendere Caldecon no deve essere più brava l'Inter ad avere quel giocatore o magari alcune volte può essere meno brava ma nel totale non può essere tanto meno brava ad arrivare come è successo nel 2015 sotto la Samp e sotto il Genoa questo non deve mai più succedere e se si lavora come si sta lavorando con un ordine logico andrà ad allinearsi tutto non è un caso che nelle ultime quattro finali di Champions hanno vinto Real Madrid Barcellona e Real Madrid di nuovo e prima Bayern Monaco le squadre che più sono ricche più alla fine hanno possibilità di vincere e quindi come dice Turito a proposito dice pensiamo a competere in casa l'Inter in casa oggi è già la quarta forza sì dopo Juventus Milan e Roma che ormai veramente si contrasorpassano siamo lì e Inter quarta e il Napoli è quinto l'Inter è quarta è vicina alla seconda e alla terza lavorando bene si può andare a superare la seconda e la terza e diventare la seconda potenza a livello economico italiano che significa facendo il rapporto in Europa chi è secondo voi la seconda potenza europea il Barcellona il Manchester City il Bayern Monaco ecco l'Inter in Italia sarebbe come il Barcellona il Manchester City o il Bayern Monaco quindi significa che in Italia saremmo messi benissimo di lusso poi una volta che l'Inter questo è il sesto anno che non fa la Champions inizia a farla sempre ogni anno secondo anno terzo anno quarto anno quinto anno i ricavi aumentano inevitabilmente in più questa finalmente nuova voglia di riorganizzarsi a livello anche di Serie A farà migliorare anche la Serie A Laser dice quindi come dite voi non sarebbe più una questione sportiva ma una questione economica Laser è 73 hai fatto proprio un giusto riassunto è proprio così perché ormai il calcio è quello non è certo si applaude l'Atalanta che l'anno scorso ha fatto è andata fuori dagli schemi però l'Atalanta ha approfittato di un Inter e un Milan che sono diciamo hanno fallito la loro progettazione di quella stagione se tu non fallisci l'Atalanta non può mai arrivare quarta non ci può essere più purtroppo per come il Sist purtroppo per qualcuno ma poi alla fine la storia del calcio al di là del Verona e della Samp che si ricordano sempre il Cagliari la Lazio ma la Lazio è già una grande piazza le eccezioni Cagliari Verona e Samp è sempre stato questo Inter, Milan e Juventus hanno vinto più di tutti in Italia perché hanno avuto più risorse di tutti gli altri poi però volevo leggere perché c'era un'obiezione di Christian che diceva io dico semplicemente che per fare questo non c'è bisogno della superpotenza su Ning come si presenta o si pensava di fare qualcosa che non si può fare no ma invece sì che c'è bisogno perché Christian c'è bisogno di Suning perché ripeto prima Moratti chiama Toir o comunque fa valutare l'Inter perché lui non era più in grado di reggere la competizione economica per come si era sviluppato il calcio europeo cioè ricordiamo che l'Inter di Moratti con Moratti va a pagare la clausola di rescissione al Barcellona per Ronaldo 48 miliardi nel 97 oggi non si poteva più fare allora tu o crei una squadra che ti fa essere competitiva ripeto sul mercato mondiale a livello economico oppure non sei competitivo Moratti non avrebbe mai voluto vendere l'Inter o se l'avesse se l'avesse voluto fare l'avrebbe comunque voluto dare non so al figlio ma certo non la non è una scelta se tu devi dare a un erede una società che produce perdite fisse se non ti puoi permettere quelle perdite perché finisce che poi devi oltre che indebitarti che come giustamente diceva Moratti non è il punto il debito non è il punto ma è la capacità di aumentare i ricavi gli utili quello è il punto perché anche il Real Madrid e il Barcellona hanno la loro situazione debitori e il Celsi ma se sono società che producono come tutte le aziende hanno un segno più davanti non so se vogliamo fare il come si dice il rating no ha più più come si usa nella politica e nell'economia cioè se tu hai una società che produce il debito lascia il tempo che trova lo puoi diluire negli anni e chiunque ti fa un prestito ti finanzia perché tu hai una società produttiva ma se tu hai anche un debito molto piccolo ma una società o anche non hai proprio debiti ma hai una società che ogni anno chiude a meno 20 meno 30 anche non è appetibile non è sul mercato per questo Sir Moratti chiama Toir Toir chiama Suning perché a sua volta dopo tre anni è arrivato al ridosso della Champions per alcuni errori anche fatti perché per esempio la gestione Moratti Toir insieme non ha portato sul lato sportivo a una continuità di gestione perché un azzario esonerato vogliamo Mancini ma no ma Mancini forse è meglio no forse era meglio di no alla fine l'Europa League è l'obiettivo no l'Inter deve lottare sempre per il massimo cioè si dicevano e pensavano cose diverse questo non ce lo dobbiamo nascondere allora a un certo punto vedete per esempio qualcuno dice no ma quando se ne va a Toir perché Toir è ancora presidente a Toir non sta creando nessun tipo di problematica a Suning nessun tipo proprio tanto è vero che le scelte di Suning in ambito commerciale sono state la promozione di Alessandra Antonello amministratore delegato le promozioni di Giovanni Gardini di Michael Williamson di Robert Faulkner cioè tutti dirigenti arrivati nella gestione già precedente quindi non c'è scontro dice no ma noi vogliamo questo noi vogliamo quell'altro diciamo che lo scontro finale o la fine di questi mazzarri mancini De Burro o Pioli eccetera eccetera è finito è finito questo scontro con la scelta di Suning di entrare definitivamente nell'area sportiva a ottobre novembre prima in corsa e poi definitivamente a maggio 2017 con la scelta di un referente massimo dell'area tecnica che è Walter Sabatini poi tutto il resto viene di conseguenza cioè Toir domani ma anche Zhang Jingdong non dice ah no non mi piace i Cardi lo voglio vendere no è l'area sportiva che prende la decisione è l'area sportiva questo diciamo la verità negli anni scorsi non si è riuscito a fare Cersi e Sidi dice Cristian anni addietro hanno messo una marea di soldi per diventare ciò che sono cosa che ora Suning non può fare no Cristian non hanno messo una marea di soldi oggi ieri l'ha sostenuto anche l'IP ha detto noi abbiamo portato il nostro fatturato da 90 milioni a 500 e il fatturato del Paris Saint Germain che è aumentato e che hanno portato la marea anzi l'hanno pagato pochissimo il club rispetto a quanto ha investito Suning 50 milioni di euro mise il proprietario del Paris Saint Germain quando compro il club non 270 per il 60% come Suning va bene però visto che c'è ancora una ventina di minuti poi se ci sono domande ecco c'è il discorso stadio e poi il discorso campo poi naturalmente mercoledì prossimo staremo già parlando in questo spazio di due giornate di campionato perché l'Inter gioca sabato alle 3 tra l'altro dopo eseguirmi a 7 gold proprio alle 3 fino alle 5 Crotone e Inter e poi martedì sera martedì sera Bologna Inter in anticipo nel turno infrasettimanale quindi mercoledì pomeriggio interagire staremo discutendo già di due giornate di campionato speriamo di tanti punti in più in classifica sullo stadio mi avete riportato qualcuno mi ha riportato le parole di Sala del sindaco che dice che il suo diciamo obiettivo la sua speranza è quella di avere ecco sì Gianluca Pasquini dice lo stadio di proprietà farebbe salire tanto gli introiti poi Zion Spartan dice Michele è possibile vedere 7 gold in streaming sì sì no ho capito Cristian sul discorso dei giocatori però anche lì i giocatori strappagati bisogna poterseli permettere ritorniamo al discorso di quanto costa un giocatore sul fatturato può esforare però poi in un modo in un altro devi ritornare di quei costi sì lo stadio è un obiettivo sicuramente allora l'Inter anche Fassone ha detto che vuole lo stadio di proprietà il problema del Milan però qual è? allora lo stadio è un asset dice il cucchiaino avere lo stadio di proprietà sarà fondamentale per esperienza partita dei tifosi in chiave moderne per i servizi e per i cari certo Fassone anche dice la stessa cosa il problema del Milan però qual è? Il Milan deve riuscire ad avere un prolungamento del prestito da 18 a 36 mesi da parte di Elio perché se il Milan non ha questo Fassone a nome di chi parla? Lui parla a nome della proprietà per 18 mesi se lui presenterà ottobre novembre un piano alla UEFA di rientro a tre anni non è credibile perché tra tre anni non si sa chi c'è se invece lui riuscirà a ottenere da Elliot un prolungamento del finanziamento del prestito da 18 a 36 mesi diciamo che può già iniziare a dire alla UEFA noi vogliamo rientrare in tre anni a Cristian a Cristian dice no mi riferivo a Cersi che l'ha fatto quando anni ha dietro si ingorano un po' come fai il giugio di no ma allora Cristian il discorso Europa cioè aumento dei ricavi a livello delle big d'Europa si può fare solo se lo fa tutta la serie A allora vi dico questa cosa che magari non è non la si dice troppo soprattutto in ambienti in trasmissioni interiste l'Inter quest'anno può andare in Champions League grazie alla Juve o grazie ad Agnelli perché una volta che la Juve Agnelli si è reso conto di aver scavato un solco rispetto al Napoli alla Roma ma soprattutto all'Inter e al Milan adesso per avvicinarsi e non rimanere in quel limbo cioè del decimo posto di fatturato nell'Europa che conta del calcio cioè per avvicinarsi alle prime cinque come ha fatto nei risultati sportivi ma non secondo una logica perché l'Atletico Madrid il Borussia Dortmund la Juventus non sono la logica sono la bellezza dello sport che ti permette a poter andare oltre le due possibilità ma la logica sono il Barcellona il Bayern e il Real Madrid che vincono le ultime cinque Champions League quella è la logica se Agnelli vuole fare la stessa cosa l'unica strada che aveva è iniziare a dialogare con l'Inter il Milan il Napoli la Roma e le altre big d'Italia e quindi ora diventa presidente dell'ECA cioè l'associazione dei club europei e ha spinto tantissimo in prima persona per farvi dare alla quarta italiana la Champions perché così facendo tutto il movimento Serie A innanzitutto può staccare chi viene da dietro cioè la Russia la Francia un periodo è stato anche il Portogallo e tu inizia a entrare nell'elite perché questo è già l'inizio della Superlega il fatto che 16 squadre su 32 nella prossima Champions League e quasi sicuramente tutti gli ottavi di finale saranno composti da Spagna Germania Inghilterra e Italia nella Champions League 2018-19 c'è il rischio che gli ottavi di finale siano un campionato europeo tra Inter Milan Juve Roma o Napoli Real Barcellona Atletico Madrid e Siviglia o chi volete voi Valencia Manchester United Manchester City Chelsea e Liverpool o Arsenal Bayern Monaco Borussia Dortmund Lipsia e non so Bayern Leverkusen non scialti a 0-4 queste 16 potrebbero fare gli ottavi di finale e le altre dicono vabbè le altre hanno fatti il girone non si sono non si sono qualificate è già campionato europeo questo è stato diciamo l'armistizio che si è firmato con chi chiedeva la Superlega e questo porterà più Inter-Barcellona Juve Real Madrid Bayern Monaco Milan partite di questo tipo cosa che negli anni scorsi era quasi impossibile negli anni ultimi era probabile adesso diventa quasi sicuro cioè tu ogni anno andrai ad affrontare un anno il Barcellona un anno il Real Madrid ok sì sì no infatti Cristian quello che stavo dicendo anch'io l'ultimo messaggio che è scritto adesso la Juve si è portata al ridosso delle prime ma non è vicina alle prime infatti non è la più competitiva allora sullo stadio sullo stadio una volta che il Milan avrà questo benedetto prolungamento del prestito o se non ce l'avrà l'Inter si muoverà senza aspettarli più l'Inter avrà un incontro adesso con il il comune di Milano col sindaco e quindi si andrà al famoso accordo sul San Siro nero azzurro quando c'è il Milan come si fa? il Milan magari non partecipa in questo momento al piano di ristrutturazione continua a pagare la sua parte di affitto fino al 2030 perché al momento è così poi quando avrà qualche certezza in più si inserisce si ristabilisce un nuovo piano ma al momento non si può più aspettare non si può più aspettare quindi questo è l'anno della verità sulla progettazione dello stadio di proprietà che sarà per l'Inter vuole essere San Siro al momento è sempre stato quello che è stato ribadito da tutta la dirigenza per quanto riguarda diciamo invece il campo oltre a dire che Cancelo torna nella sosta oggi è tornato Sant'On per esempio in allenamento Icardi si è fatto biondo e quindi questa è un'altra novità ieri sera ecco abbiamo parlato tanto anche di abbiamo parlato tanto di questo discorso di Cardi anche lunedì sera ecco chi non se l'è perso al minuto 40 al minuto 40 di obiettivo Inter di lunedì sera fino al minuto 46 47 ci sono 6-7 minuti in cui anche Franco Caravita tranquillamente parla di quello che è successo nella fanzine dicendo che si poteva benissimo evitare non si sentiva proprio il bisogno uno dice non voglio fare il coro per i giocatori e nemmeno per quel di Riccardi no perché devi dire a fuori poi ognuno fa quello che vuole però sicuramente questo si può dire non si fa il bene dell'Inter perché non si unisce dice vabbè ma poi si è comportato così ho capito però se vogliamo vedere il bene dell'Inter bisogna fare un passo avanti girare pagina e chiamiamolo armistizio chiamiamolo come come si vuole ma non ha proprio senso anche per chi ce l'ha personalmente visto che sono componenti della stessa squadra della stessa società cioè una parte di tifo e il capitano e attaccante della squadra non ha proprio senso e tra l'altro ha fatto bene anche Icardi a far vedere però a me è piaciuto l'ho visto su una pagina Facebook adesso non ricordo la pagina Facebook in cui non si vedeva solo quello che ha messo Icardi cioè che tutto lo stadio grida Icardi Icardi Mauro ha segnato Icardi no c'è un video ancora più bello in cui si vede che tutta la curva la curva nord quella famosa perché non è che 7000 persone scrivono la fanzine al goal di Icardi gridano Icardi Icardi tutta la curva nord quindi dice come la mettiamo evidentemente chi scrive la fanzine non rappresenta nemmeno al 10% il settore secondo anello verde visto che tutti quanti gridavano Icardi quindi pensiamo alle cose serie e cioè a Crotone Inter il 15 alle 15 del 16 si gioca Davide dice San Siro Nerazzurro cosa vuol dire che diventa di proprietà o solo che verrà dato in concessione solo per l'Inter no vuol dire che l'Inter fa un progetto in cui ha la ristrutturazione di alcune parti dello stadio ma poi mi confondo quando leggo contemporaneamente i messaggi e poi magari ci torno sugli ultimi messaggi però finiamo questo discorso che significa San Siro Nerazzurro significa che l'Inter ha un progetto di ristrutturazione dello stadio lo stadio si divide con il Milan anche il Milan dovrebbe essere d'accordo sulla ristrutturazione l'Inter può proporre al Comune dice no noi andiamo avanti lo stesso per la nostra strada facciamo in modo che i lavori si facciano lo stesso li paga l'Inter e qui a proposito i famosi capitali bloccati non ci ritorno li paga l'Inter quando gioca il Milan il Milan gestisce i suoi i suoi eventi l'Inter ha un accordo con il Comune può avere un accordo con il Comune per 8 anni e può avere può sfruttare un aumento dei ricavi perché quando c'è l'Inter in casa quando gioca l'Inter e anche durante la settimana può sfruttare lo stadio come uno stadio di proprietà a tutti gli effetti e quindi per esempio il Sindaco proponeva come è stato fatto un po' anche nel caso del Bayer Monaco che per un periodo ha avuto in affitto il Monaco 1860 e quando andava il Monaco 1860 nello stadio del Bayer Monaco si colorava di azzurro anziché di rosso lo stadio quindi se il Milan viene nello stadio in cui l'Inter fa i lavori il Milan in quel momento può trovare un escamotage per colorarlo di rosso sfruttare lo stesso San Siro per cui paga l'affitto e l'Inter però può avere il suo ritorno dell'investimento fatto certo è molto più lineare se le cose vengono decise insieme però non si può aspettare sicuramente all'infinito dicevo per quello che riguarda invece il campo allora proviamo un po' a proiettarci allora venerdì sera siamo Obiettivo Inter sempre in diretta quindi con gli ospiti come al solito lunedì e venerdì sera dalle nove e mezza in poi e parleremo molto di Crotone Inter e soprattutto di quello che dirà Spalletti alle tre di pomeriggio insomma di pomeriggio l'uno e mezza ecco l'uno e mezza venerdì venerdì pomeriggio c'è la conferenza perché si gioca sabato la squadra poi deve partire per Crotone ricordiamo che l'anno scorso Crotone Inter è stata una delle prime tappe la seconda tappa del del Calvario finale due punti in otto in otto partite che avrebbero potuto cambiare la storia recente dell'Inter perché tra Pioli che ha perso il posto sono successi diciamo è successo di tutto dopo quel Crotone Inter e poi le altre sconfitte con la Fiorentina il Napoli e il e il Genoa però adesso il passato è passato l'Inter va a Crotone con altre sicurezze e però anche con delle cose da mettere a posto come ha detto Spalletti per raggiungere l'obiettivo bisogna essere più forti allora dietro sicuramente ci sarà Andanovic D'Ambrosio perché Cancelo non c'è Miranda Scrinier coppia centrale Scrinier centrodestra Miranda centrosinistra Miranda il cui contratto scade nel 2019 non nel 2018 come qualcuno ha detto oggi a sinistra Dalbert potrebbe essere riconfermato a centrocampo Borca Valero a sinistra Perisic davanti Cardi a destra Candreva e poi i due soliti ballottaggi nove undicesimi fatti Vesino o Gagliardini Joao Mario o Brozovic o io dico anche o anche Eder perché adesso sicuramente si giocheranno due partite in tre giorni e ci sarà un minimo di cambio Walter intanto dice Cristian dice speriamo che Caramosi guiagli una bella sorpresa e Walter dice Michele pensi che quest'anno è l'anno zero per l'Inter di Suning no secondo me è l'anno uno perché l'anno zero è stato il disastro sportivo del 2016-17 settimo posto e quello resta l'anno zero cioè l'anno in cui Suning ha delegato poi è entrato in corso poi però ha osservato ha tratto delle conseguenze ha fatto delle scelte quello vale quello è l'anno zero l'anno passato l'anno scorso tra l'altro chiuso anche dal punto di vista economico col pareggio di bilancio quindi ci sono stati luci ombre ma alla fine se l'Inter ha Sabatini adesso se l'Inter ha Spalletti in panchina è grazie anche al disastro dell'anno scorso che fa pensare che bisognava andare in quella direzione mettendo dei punti fissi quindi questo è l'anno uno e l'Inter nell'anno zero è andata male mi ha messo un punto fermo nell'anno uno deve arrivare in Champions League nell'anno due cioè il 2018-19 deve lottare già per il vertice cercare di consolidarsi come seconda terza forza economica italiana e quindi se tu sei la seconda terza forza economica italiana se vai in Champions League con l'aumento dei ricavi l'anno prossimo se l'Inter ha fatto bene questa campagna acquistica se Skriniar si conferma Morcavalero si conferma Dalbert si conferma Vesino si conferma l'anno prossimo quando io dico nove undicesimi a Crotone si sanno due non si sanno significa che oltre a augurarci la crescita di Gio Mario di Cadreva e di Caramò eccetera si può anche pensare che il mercato dell'anno prossimo non c'è più bisogno del mago per farlo perché intanto c'è la penombra accendo un attimo la luce così si vede ecco qua si vede meglio dicevo si può migliorare facilmente oggi per esempio i giornali hanno parlato di questo assaltatore di centrocampo l'Inter deve prendere di centrocampo sì è vero il mercato non è stato come ha detto Sabatini è da completare cioè l'Inter non è oggi pronta non è tutto a posto un centrale di difesa un trequartista per esempio se Brozovic continua a essere Brozovic che vediamo ultimamente o abbiamo visto in generale si può andare su un trequartista a destra vediamo Caramon come va Cancelo come va se no si può fare qualcosa anche lì però se parliamo solo di mercato dell'anno prossimo oggi io già vedo per l'anno prossimo tre punti che poi possono essere tranquillamente cambiati smentiti e stravolti perché magari Mario diventa come Nainggolan ieri per esempio Geco ha detto attenzione perché la Roma non è il primo segnale l'aveva detto Perotti cioè io devo giocare come non è proprio il mio modo preferito bello Marco dice gli assaltatori sono gli alpini gli alpini assaltatori Perotti dice devo attagliare di più e già l'ala sinistra che dice devo tagliare di più non devo fare l'esterno come ho sempre fatto poi a destra Schick ancora non gioca e se gioca non ho mai giocato alla destra Nainggolan ieri Geco diceva è più lontano rispetto a prima che faceva il trequartista ci sono Juan Jesus è un titolare oggi della Roma prima non lo era non c'è Rudiger la Roma dal punto di vista tecnico ha dei punti interrogativi a livello di assetto superiori all'Inter l'Inter invece deve capire se Gio Mario da grande può fare il trequartista deve capire se si riesce a a trovare in casa un terzo centrale tra Ranocchia Van Oysden D'Ambrosio comunque credo che nella prossima di stagione con i ricavi da Champions non hai bisogno di sette acquisti ma anche se ne prendi anche se pensi all'anno prossimo a due acquisti sei già messo abbastanza due acquisti di un certo tipo che vanno a farti fare salto di qualità uno dietro e uno nel ruolo di trequartista e già sei messo sei messo abbastanza bene perché? perché nell'anno uno nell'anno zero hai imparato diciamo il metodo nell'anno uno hai messo le basi perché oggi l'Inter ha un po' in tutte le zone del campo almeno nei titolari i ruoli coperti adesso devi andare a prendere quelli proprio che ti fanno fare l'ultimo gradino l'ultimo salto ed è più facile quando hai messo a posto diciamo tutto il contorno vediamo poi se Spalletti durante la stagione si inventerà qualcosa anche la stagione in corso per esempio secondo me una cosa che potrebbe anche vedersi è Eder Eder nel ruolo di titolare perché con Conte faceva la seconda punta nel 3-5-2 e marcava anche il mediano e il regista quando partiva l'azione quindi secondo me Eder può anche giocare lì dove gioca Joe Mario si può sacrificare ed è uno che però quando ribatte il fronte rispetto a Joe Mario che è un giocatore completo ma gli manca è completo tatticamente e fisicamente ma dal punto di vista del tiro gli manca proprio quella caratteristica principale del trequartista cioè il tiro in porta quindi Eder lì avrebbe quel qualcosa in più per esempio io mi ricordo Crotone e Inter negli ultimi 20 minuti l'Inter è stato un assedio perse 2-1 Eder prese un palo interno cioè una scena che di Joe Mario non me la ricordo quasi mai quindi mi piacerebbe provare magari prima partita in corso e poi si vede se può essere una scelta definitiva anche perché noi auguriamo a Peris e Cicardi di giocare 35-36-37 partite su 38 e quindi Eder se deve fare il vice Peris e il vice Icardi non gioca mai a questo punto è meglio che fa il vice Joe Mario dove magari può giocare un po' di più questo è diciamo sono i due ballottaggi Gagliardini Vesino Joe Mario Brozic Joe Mario Eder e poi naturalmente secondo me Cancelo può fare può fare l'alternativa non solo a D'Ambrosio ma anche forse soprattutto anche davanti perché è già più abituato a giocare in fase offensiva allora allora che c'è da dire sì c'è da dire anche che ah il cucchiaino dice Michele che ne pensi del 3-4-3 ma Spalletti l'ha detto che avrebbe provato durante l'anno la difesa a 3 a 3 e mezzo a 4 e quindi la difesa a 3 secondo me si può fare al momento non se ne vede proprio la necessità perché tante squadre in Serie A non stanno giocando a 3 ma se giochi contro una squadra che gioca a 3 l'Inter può benissimo accentrare D'Ambrosio con D'Ambrosio Scrimi Armiranda Candreva D'Albert esterni Borca Valero Vesino o Gagliardini centrali e davanti puoi avere Perisic Icardi il terzo a scelta tra Brozovic Joe Mario lo stesso lo stesso Eder quindi il 3-4-3 l'Inter secondo me lo può fare anche con Cancelo D'Albert oltre che con Candreva e D'Albert perché non calcoli Caramont come sostituto a Candreva dice il masso della compravendita no 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 lo calcolo lo calcolo Caramont però ad oggi non credo che Spalletti stia pensando a Caramont nel turnover tra Crotone e Bologna cioè se pensa a un turnover pensa a Brozovic Eder che nella gerarchia attuale sono Brozovic Eder quelli che possono hanno già fatto i titolari nell'Inter e quindi sono davanti in questo momento a Pinamonti e a Caramont però io mi auguro che Caramont bruci le tappe e vada a mettere in difficoltà Spalletti anche in quel ruolo nel ruolo di alla destra dicevo il 3-4-3 è possibile non lo vedo però da subito per esempio il Crotone non gioca a 4 dietro il Bologna pure ecco poi c'è il Genoa vediamo già per esempio con i Giampi se giocando in casa con i Genoa non credo che Spalletti andrà a cambiare poi si va bene Venti su tutte le squadre giocano a 4 Colidio è stato acquistato Antonio Cosenza è un ottimo prospetto sì però non è non è non è non è ancora ufficiale si usi di Ambrosio come terzo centrale ha gli stessi panchinari in difesa Eranocchio a 3 è almeno rischioso sì no non ho capito però ormai anche per esempio vedete come gioca il Bayern con Alaba il il Chelsea con Azbiliqueta quando l'Inter giocherà a 3 dietro non gioca con Ranocchia Miranda e Skriniar questa è una difesa da da Inter Bayern Monaco da India non l'ha fatto nemmeno quando abbiamo giocato con Bayern Monaco in estate è troppo difensiva cioè oggi difesa a 3 significa che il terzo di difesa deve essere uno che poi in fase propositiva si spinge lì tra Ranocchia e Miranda che si spinge non si spinge nessuno e quindi non è proponibile la difesa a 3 così troppo troppo difensiva quindi invece con il terzino nei 3 che sa fare anche il centrale con ripeto Cancelo D'Alberto che andreva D'Alberto esterni potrebbe anche durante l'anno ma ad oggi non credo che lo lo proporrà Spalletti allora che c'era più per concludere sì sul discorso dei giovani interessanti dicevo perché questa primavera dell'Inter allora la primavera dell'Inter quest'anno è una squadra ancora più forte se possibile degli ultimi anni più forte degli ultimi anni che significa che ha dei giocatori che possono secondo me affacciarsi alla prima squadra al di là di Vanoysden e Pinamonti che ormai sono con la prima squadra fissi vedendo per esempio già Inter Udinese ma tanti amichevoli quest'estate tornei vinti e stravinti proprio esatto Turito 22 Amala mi ha letto nel pensiero Odgard ha ragione anche Christian Merola verissimo cioè questi sono giocatori da molto più vicini alla prima squadra degli ultimi anni che abbiamo visto negli ultimi anni ma è vero Merola no perché in 2000 è giovanissimo ma va bene ma Odgard e Zaniolo hanno già il fisico ah scusami è vero Laser 73 vorrei sapere anche io di più su Colivio sì Colivio è venuto alla fine dell'estate alla fine di agosto per le pratiche di passaporto comunitario quindi male che vada viene tesserato a gennaio perché compie i 18 anni se no verrà anticipato già potrebbe essere anticipato già ottobre novembre il suo acquisto lui è un 2000 quindi farà 18 anni all'inizio di gennaio all'inizio verrà aggregato la prima squadra ha ragione anche Zion Spartan Valietti anche a me sia in sala che in Valietti c'è due terzini c'è due super interessanti però è vero che Colivio ha quel fascino anche del giocatore sudamericano e poi vediamo anche come finisce la faccenda per l'Egri perché secondo me non è finita ancora quella faccenda Genova vediamo come va a finire comunque sui giovani l'Inter è messa benissimo e sono curioso di vedere se Zaniolo e Odgaard saranno già convocati qualche volta da Spalletti perché l'Inter ha 23 giocatori sappiamo che in Serie A vanno 23 anche tra panchina e campo quindi qualche volta qualche spizio se lo potrebbe anche togliere Spalletti per esempio Odgaard sapete che mi ricorda un po' Odgaard mi ricorda Altobelli perché è come è uno spillo è un po' alto e magro ti dà l'impressione sempre di un po' di caracollare poi però c'ha il dribbling ha il dribbling anche facile cioè quasi sempre gli riesce e lo abbattono gli fanno fallo ogni volta Zaniolo è proprio quel trequartista che oggi non si usa più tanto cioè più il trequartista a vecchia maniera quello che che ripeto oggi non si usa perché va più di modo il 4-3-3 quindi il veloce esterno anche gli stessi tridenti del Barcellone e del Real Madrid non hanno il classico trequartista Turito dice non ci dimentichiamo nemmeno di Emers sì sì anche Emers ma tanti promettenti però ripeto se devo spendere dei nomi questi due nuovi acquisti che tra l'altro sono stati pagati anche lui dice Laser mi ricorda più Backcamp molto forti tecnicamente è vero è vero cioè Odgaard è stato pagato un milione e tre credo e invece Zaniolo ha anche qualcosa in più uno e mezzo più anche qualche bonus però sono giocatori veramente molto promettenti l'Inter questi investimenti di Zaniolo Odgaard Pinamonti Van Oysden Colidio ne ho già detti cinque classe 99 addirittura 2000 se mettiamo Mero l'arriviamo a 6 con due classi 2.499 io dico se di questi 6 2 diventano da Inter 2 Caramò giustamente dice anche il maestro Caramò è stato pagato pochissimo perché era scadenza l'anno prossimo lui è stata brava l'Inter anche a prenderlo e quindi sì Zaniolo ha un anno di Serie B con l'entera dice Luca giusto dicevo sono 6 7 giocatori se li mettiamo anche Caramò e se ne escono due o tre di questi hai fatto quello che oggi l'Inter deve fare e cioè andare a prendere il campione prima che esploda definitivamente e poi abbiamo visto che per esempio sul caso Perisic l'Inter ha fatto qualcosa di impensabile questo dobbiamo dire impensabile forse è stata anche un po' aiutata da Manchester perché il Manchester con i soldi che spende e spande dappertutto non dare da 40 di offerta all'Inter 50 se sta perché se il Manchester avesse voluto arrivava a dare 70-60 milioni all'Inter e l'Inter avrebbe venduto oppure Martial più soldi cambiava il mercato dell'Inter l'Inter probabilmente avrebbe preso Schick e Keita oppure almeno uno dei due con i soldi di Perisic quindi sarebbe cambiata la storia però siccome devi vincere anche nel presente devi anche Spalletti ha voluto fortemente tenere Perisic i fatti gli stanno dando ragione e però si sono anche dovute diciamo sommare delle coincidenze buone e c'è il fatto che il Manchester non ha rilanciato fino in fondo e quindi diciamo che c'è il maggior mix tra esperti e meno esperti sì sì Colidio con una L sola Marco Colidio Facundo Colidio l'elemosina non la chiedo a nessuno si tengano Marziale allora avevo letto però un altro messaggio oltre a Colidio Scriniar è un classe ah sì Marco che diceva su Salsedo è finito tutto su Salsedo e Pellegri no perché altrimenti li avrebbero venduti ad agosto abbiamo visto che quando non vengono depositati i contratti tutto è è possibile quindi è ancora possibile Pellegri Salsedo però dobbiamo anche iniziare a pensare che è vero che quando l'Inter ha investito sui carri e Belfodil io dicevo se ne abbiamo indovinato uno siamo a posto e uno l'abbiamo indovinato erano tutti e due giovani 93 e la cioè 23 anni all'epoca avevano 22 anni no scusate 20 anni perché nel 2013 Icardi aveva 20 anni erano due adesso di prima punta cioè di come prima punta Pinamonti 99 è lo stesso Coliglio del 2000 se anche Odgaard cresce bene è un altro 99 e Pellegri addirittura un 2001 però non è che poi l'Inter potrebbe giocare con quattro prime punte tra cinque anni anche perché poi hai lo stesso Icardi che speriamo possa rimanere sempre all'Inter quindi voglio dire cioè l'Inter potrebbe fare anche un ragionamento un po' diverso e andare a investire magari anche in un altro settore per esempio come diceva qualcuno Travalietti Van Oysden e attenzione a bastoni l'Inter ha preso bastoni a 10 milioni lì però il governo non era non aveva bloccato il partito comunista non aveva bloccato 10 milioni 10 milioni per bastoni non è che sono stati spesi il prima del 18 agosto in cui c'è l'editto cinese degli investimenti proibiti limitati e favoriti Max Aliverti dice pure Merola promette bene sì Merola che tra l'altro è già stato preso da Mino Raiola e quindi mi aspetto già richieste di ingaggio un po' come come tutti i suoi assistiti però promette veramente promette veramente bene diciamo che quest'anno ci consoliamo senza coppe nel vedere questa Youth League quindi la Champions League dei giovani e speriamo di poterci divertire con quella l'Inter adesso ha due turni perché sapete la Youth League prima c'era la Next Generation Series che l'Inter ha vinto nel 2012 con Stramaccioni poi c'è stato un altro anno e poi alla fine nel 2013 è nata la Champions League ufficiale della UEFA la Champions League ufficiale della UEFA ha i gironi così come sono i gironi delle squadre maggiori e poi ci sono i vincitori dei campionati tra cui l'Inter che spareggiano se vincono gli spareggi vanno a finire nel tabellone principale degli ottavi di finale nel nuovo anno quindi se l'Inter adesso deve superare due turni andate in ritorno e se vince questi due turni va nel tabellone principale nel 2018 quindi ci possiamo godere questa Champions League dei giovani per quest'anno tutti quanti diventeremo più esperti di giovani però ripeto il valore sta il sì sì dico bene il valore sta crescendo molto se pensiamo a qualche anno fa secondo me si inizia a vedere qualche giocatore di 18 anni davvero da quasi da quasi da prima squadra va bene abbiamo toccato un po' tutti i punti oggi soprattutto il ferro finanziario mi premeva ritornare su quello perché non riesco quando c'è il dibattito con gli ospiti a dilungarmi tanto è impossibile perché giustamente dobbiamo dibattere e quindi andiamo più sull'attualità oggi ho voluto fare questo piccolo approfondimento più diciamo di numeri tecnico poi ci sarebbero tante curiosità mi dispiace che ripeto non tutti vadano a controllare queste curiosità non so per esempio se avete qualche curiosità su il compenso degli agenti per esempio no Banega per esempio aveva 4 milioni e mezzo perché era venuto a parametro zero e quindi tu hai dovuto pagare 4 milioni e mezzo il suo agente e oggi questo è un altro lato del calcio che va migliorato l'Inter per esempio ha pagato per compenso agenti nel bilancio 2015-16 23 milioni e mezzo che non sono cioè un acquisto di un altro giocatore e così c'è per esempio anche 2 milioni e 6 per chi è? Hernanes Hernanes che era andato poi alla Juventus e ora è tornato è tornato in in Brasile non so dai vi dico le le scadenze le scadenze dei contratti che magari qualcuno non ce l'ha chiara allora vabbè Berni no l'ha rinnovato quest'anno fino al 2018 allora no ma perché parliamo in italiano c'è la stessa parola va bene è stato pure in tournée Valietti sì Valietti poi abbiamo visto anche Sala in quest'estate vabbè non ci sono casi particolari perché poi alla fine Perisic ha rinnovato fino al 2022 Icardi ha rinnovato ma adesso può darsi che ci sarà ancora il prolungamento di un anno così come Brozovic che aveva già prolungato fino al 2021 abbiamo detto di Miranda 2019 Ranocchio 2019 Sant'Onno 2019 Martins 2020 eh scusate Martins si chiama anche Martins ma Eder Cittadin Martins Eder 2020 per lui D'Ambrosio che ha prolungato dal 2018 al 2021 lo stesso Meders cadeva nel 2018 per esempio non ha rinnovato era dato via Nagatomo 2019 qualcuno magari non lo sa 2019 Biabiani per esempio 2019 però c'è il diritto di riscatto da parte dello Sparta Praga poi vediamo un po' perché oggi eh l'ho trovato un po' di curiosità divertenti a parte quelle meno divertenti magari che ho detto all'inizio su ce ne sono ce ne sono se ce ne sono eccola qua per esempio una curiosità ah ah sì per esempio ecco Kovacic le plus valenze sono anche ecco per esempio la composizione dei debiti questa è bella è brutta più che altro 473 milioni in euro e poi ci sono anche i debiti in altre valute non so argentine indonesiane soldi brasiliani insomma vabbè però abbiamo detto che poi si arriva a 488 473 su 488 sono in euro poi si hanno crediti e debiti nei confronti di tante società non so per esempio una cosa interessante era che l'Inter aveva per esempio società straniere ancora debiti con il Bayer per 10 milioni o con il Wolfsburg 5 con il Granada con la Samp per 14 milioni 8 milioni con la Roma 5 milioni col Parma 2 col Bologna poi naturalmente ci sono anche i crediti non è che facciamo una colletta per sanare i debiti no no non c'è bisogno non c'è bisogno eccolo qua ecco i crediti sono anche interessanti per esempio ci sono 10 milioni di crediti dal Bologna 7 milioni e mezzo dalla Juventus pensate un po' la Samp 5 milioni il Parma 5 milioni e questi sono un po' i principali poi vediamo qualche altra ah qualche prezzo preciso di giocatori ecco questo è interessante anche allora per esempio con Dobby 40 milioni e mezzo Perisic 19 milioni 50 Jovetic era stato pagato 16 Shakiri 15 Miranda 13 e 2 ricordo che Miranda è stato riscattato al gennaio del 2016 Eder 11 e 8 Murillo 8 e 3 Prozovic 5 Banega 4 e mezzo abbiamo detto tutti di commissioni ecco Van Oisden solo 250 mila euro dallo standard degli Eci pensate che poteva essere già una plusvalenza clamorosa quest'estate Kovacic per esempio era stato acquistato a 14 e mezzo poi è stato ceduto e quindi è stata una grande plusvalenza dai qualche altra curiosità qualche altra curiosità vediamo vediamo un po' 7 milioni non li vedremo mai dice dalla US la nostra amica poi alla fine li vedremo li vedremo ecco una cifra importante ecco per esempio proventi da sponsorizzazioni sono 30 milioni proventi commerciali 2 milioni proventi televisivi 79 milioni ecco per esempio questo è interessante il dato che dicevano la Premier League uno viene promosso in Premier League a 100 milioni l'Inter nel bilancio 2015-16 aveva proventi televisivi 79 milioni ed era la terza anzi la seconda insieme al Milan alle spalle della Juve come incassi dalle dalle tv dalle tv i diritti pluriennali alle prestazioni calciatori questo è un dato interessante 161 quel famoso dato che doveva essere abbattuto o meglio doveva scendere sotto i 150 perché altrimenti andava oltre il 60% il 60% poi poi c'è il caso di Dodò che è anche divertente perché Dodò è stato dato in prestito alla Samp però con l'obbligo di riscatto alla prima presenza in gare ufficiali nella stagione 17-18 oppure se non avesse mai giocato quest'anno alla prima gare ufficiale della Samp nel 17 in gare ufficiale con la mia squadra nel corso della stagione 17-18 e alla prima gare ufficiale della Samp sì sì no nel corso della stagione 17-18 e quindi Dodò c'è l'obbligo di riscatto la cessione di Luxalt i prezzi dei giocatori questi di olio anche già detti ma eccolo questo è interessante dal punto di vista finanziario come già anticipato nel paragrafo con diritto azientale risultano in essere trattative in fase avanzata con un istituto di credito per la stipula di un nuovo contratto di finanziamento per complessivi 300 milioni i cui rispettivi saranno utilizzati in parte per finanziare il debito esistente in parte per finanziare la gestione operativa e il circolante poi adesso a fine ottobre avremo tutti gli aggiornamenti su come è andato a finire da questo punto di vista perché ricordiamo che altrimenti l'Inter con la Goldman Sachs ha quei 230 milioni che vengono pagati per un milione al mese quindi con rate trimestrali e c'è poi sempre quella rata finale da 184 milioni che deve essere pagata nel giugno del 2019 la famosa maxirata va bene va bene chiudiamo qua perché altrimenti poi con i conti si diventa anche troppo noiosi se non ci sono delle tabelle non si può andare ad avere dei riscontri questo magari serviva più per gli accordi UEFA per me è stato assurdo pure l'aumento a Perisic prima mi fai vincere e poi ti do l'aumento eh lo so però Cristian è la legge del mercato cioè Perisic era andato già al di là per esempio ci sono queste statistiche divertenti 18 gol tra assist e gol di Icardi 19 di Perisic nell'ultimo periodo vuol dire nel 2017 vuol dire che cioè come in ogni posto di lavoro se uno rende è vero che deve far vincere però un giocatore da solo poi non ti può far vincere e quindi lui ha dimostrato per esempio Bonucci che prende 7 milioni e mezzo all'unica non poteva venire all'Inter se Miranda prende 3 perché Miranda ah sì dice Cristian ha un contratto in essere lo so capito però i contratti a rendimento credo che saranno il futuro ad oggi quando hai dei giocatori che sono su determinati parametri cioè il discorso è oggi è più facile che Perisic e Icardi accettino di andare in un'altra squadra che l'Inter li riesca a trattenere quindi bisogna anche essere coscienti di quello che è il proprio target il proprio diciamo posizionamento nel mondo e oggi l'Inter fin quando non arriva in Champions dobbiamo solo tirare un sospiro di sollievo che i giocatori di quel calibro di quella fascia siano ancora nell'Inter sì dice Cristian se ne stanno accorgendo dell'errore con Bonucci sì poi tra l'altro il Milan domani passa alla difesa 3 e credo che così giocherà perché Musacchio Romagnoli Romagnoli è rinfortunato Romagnoli e Bonucci fanno la difesa 3 Conti e Rodriguez sono terzini da difesa 3 e quindi il Milan è costruito per giocare col 3-5-2 il problema sarà che tra Cialanoglu e Buonaventura ne gioca massimo uno e non so se Cialanoglu che ha già detto che gli piace giocare o trequartista o esterno sia il suo ruolo e in più Kalinic e Andresilva se la coppia d'attacco Suso che è uno dei loro migliori non gioca non gioca ma saranno problemi loro di Montella e l'Inter invece è già più quadrata già si sa più come gioca e come l'assetto ieri sera ci siamo divertiti non ne ho parlato per niente messi di qua messi di là avete visto poi quando si diceva che l'anno scorso la Juve più forte del Barcellone ti può andare bene ma se giochi dieci volte Juve-Barcellone il Barcellone la vince sette o otto volte e la Juve due o tre e l'anno scorso è capitato proprio uno di quelle due o tre con il Real Madrid è capitata uno di quelle sette o otto se non otto o nove visto che il Real Madrid l'anno scorso ha dimostrato di essere anche superiore al Barcellone e quindi questa è stata la serata di Champions dove il calcio spagnolo ancora una volta ha dimostrato di essere superiore al calcio italiano anche in Atletico Madrid Roma io ho visto di più quella Roma-Atletico Madrid grande Ciollo Simeone una grande partita dell'Atletico Madrid che è straveritata di vincere io non è che avevo piacere anzi forse se avessi vinto la Roma non è che mi sarebbe dispiaciuto però l'Atletico Madrid ha straveritato aveva straveritato clamoroso il gol a porta vuota sul finale l'ultima parata di Alisson e Luca Fumai dice bisogna dirlo sconcerti che ha detto che Di Bala è meglio di Neymar sì sì quell'artista di strada ci sono tanti che ci hanno scritto anche nelle dirette Facebook ecco quello in cui ho sbagliato clamorosamente oggi è non aver ricordato per niente anche quando eravate più numerosi collegati di iscriversi sempre al canale YouTube perché se questa diretta di interagire il mercoledì pomeriggio sarà solo su YouTube così come i tempi supplementari con Giulia Falcone lunedì alle 11.20 11.15 11.20 dopo Obiettivo Inter solo su YouTube e perché mi dispiace che quando facciamo le dirette su Facebook e su YouTube tanti diciamo un po' pigri vedono tutto su Facebook però noi su Facebook siamo a 120.000 su YouTube siamo a 6.000 c'è il paragone non regge quindi i 120.000 di Facebook non dicono che devono far arrivare il canale a 120.000 domani mattina ma almeno da 6.000 a 20.000 in qualche settimana perché altrimenti siamo troppo pochi io adesso spero di aver fornito anche qualche elemento utile per per la discussione e così che mercoledì prossimo tanti che hanno seguito oggi la puntata la vedranno in demanda stasera o domani possono poi essere interessati anche la prossima volta naturalmente non è uno spazio di economia ma è uno spazio dedicato all'Inter però siccome è stata la settimana in cui si è continuato a dire e poi sono tutti proprio convinti di questa cosa mi fa piacere insomma del partito comunista alcuni qualcuno addirittura ha detto che Suning mette in vendita l'Inter cose dell'altro mondo dell'altro mondo ma non cinese ma di un'altra galassia allora grazie grazie davvero a tutti per avermi seguito iscrivetevi al canale youtube fate mi piace su Interfan TV su facebook ci vediamo venerdì sera con il dibattito quindi con gli ospiti apriremo sempre i telefoni dopo la mezz'ora cercheremo di leggere più messaggi rispetto all'ultima puntata dove non è stato non è stato facile cercheremo di avere sempre più spazio più minuti a disposizione quelli che mi scrivono in privato io da oggi gli dico il mercoledì pomeriggio oppure il lunedì e il venerdì sera poi quando c'è la partita fuori casa cercherò di dare più spazio possibile anche il giorno della partita fuori casa in casa sono a San Sile quindi faccio le videopangelle la sera ma quando l'Inter gioca fuori casa per esempio sabato a 7 gold farò un po' di prepartita magari lì si va bene Cristian ti saluto Giulia farò il prepartita lì dallo studio vediamo chi vuole partecipare Filippo e chi ci sarà Helio Corno e tutti gli altri e poi post partita vediamo magari dopo un'oretta torno a casa e facciamo anche un post partita sulla pagina Facebook e poi le solite pagelle sul canale YouTube lunedì sera e venerdì sera obiettivo Inter mercoledì pomeriggio interagire grazie a tutti quelli che hanno seguito questa puntata che è andata a oltre i 90 minuti previsti due ore esatte in questo momento è troppo e quindi non esageriamo ciao a tutti ciao anche a Laser73 grazie a presto su InterfanTV da Michele Borrelli sempre forza forza Inter ciao ciao a tutti condividete anche on demand anche on demand ciao ciao a tutti grazie a tutti